Ancora bomba d'acqua in territorio ibleo a Ragusa la seconda in 20 giorni via Archimede torna ad allagarsi disagi e traffico in tilta anche in diverse zone di Modica Scoperti dai carabinieri mentre trasportavano a Modica diversi grammi di cocaina pronta per essere spacciata Nel weekend due persone arrestate, controlli anche a Pozzallo Riqualificazione di via Roma ancora nulla di fatto Dalle 20 di domani i commercianti spegneranno le vetrine in mostra anche alcuni cartelli in segno di protesta Dalla serie D alla promozione tutte le ble in cerca di punti Partita difficile per il Marina di Ragusa contro il Roina Il Ragusa anticipa domani contro il Reale Siracusa Salve a tutti e ben trovati con l'informazione di TG 74 Apriamo il telegiornale mostrandovi le immagini dell'intensa bomba d'acqua che si è abbattuta ieri Soprattutto a Ragusa e a Modica Danni e disagi prontamente affrontati dai vigili del fuoco, dalla polizia locale e dalla protezione civile A Ragusa torna ad allagarsi via Archimede Guardate 30 minuti o poco più di intensa pioggia La seconda nel giro di 20 giorni e la storia si ripete in via Archimede a Ragusa Che torna ad allagarsi così come già accaduto lo scorso 20 settembre Circolazione in tilt e danni soprattutto alle abitazioni e ai negozi al piano terra Il livello dell'acqua anche ieri ha raggiunto altezze preoccupanti Facendo immergere gran parte delle autovetture posteggiate nella parte bassa di via Archimede Insomma una situazione non nuova che si ripete da decenni E che è stata anche negli ultimi giorni al centro di diversi incontri a Palazzo dell'Aquila Incontri terminati con tre diverse soluzioni Il dialogo con Ferrovie Italiane per far defluire l'acqua in maniera non violenta Nell'area di loro pertinenza Intercettare e far defluire gran parte dell'acqua direttamente in via Ducezio Per poi incanalarla su Contrada Tabuna E infine predisporre un immediato piano di intervento da parte della protezione civile Piano attuato per la prima volta ieri e che ha visto i servizi di soccorso giunti sul posto Con due squadre della protezione civile che hanno monitorato l'andamento delle acque E coordinato il traffico per tutto il tempo dell'emergenza Acquazione che ieri ha interessato anche gran parte di Modica Soprattutto la zona alta e il centro storico Via Fontana e via Roma in tilt Una vera e propria cascata d'acqua tra le scalinate di Modica Alta Off limits per un lungo periodo il polo commerciale Muri caduti anche in via Modica Noto, in via Modica Ragusa e in via Nazario Sauro Detriti e cassonetti della spazzatura sulla carreggiata Pannelli di velti e alberi sradicati Le situazioni più critiche si sono registrate in via Calamezzana e via Michele Pulino Dove è saltato un pezzo d'asfalto In via Nazionale si è reso necessario l'intervento di un mezzo cingolato Per ripulire la carreggiata dai massi provenienti dalla collina di Monserrato Proprio nella fase più acuta del temporale Si è messa in moto la macchina delle emergenze Che ha provveduto a rispondere alle tante richieste di soccorso E a ripristinare lo stato dei luoghi Mezzi della protezione civile, della polizia locale e ditte private Hanno ripulito le strade dai detriti Regolato il traffico e soccorso diversi cittadini In serata, dopo aver sentito i dirigenti scolastici Sono cominciati anche i sopralluoghi nelle scuole di competenza comunale Per accertare eventuali infiltrazioni Che potessero mettere a rischio il normale svolgimento delle attività didattiche Buona, fortunatamente, si è dimostrata la tenuta dei torrenti Dove non si sono registrati livelli preoccupanti d'acqua Restiamo in argomento di rischio idrogeologico Si è discusso proprio in prefettura La presenza non solo del prefetto Ma anche di tutti i sindaci Iblei Obiettivo quello di fare rete E prepararsi al meglio per affrontare eventuali emergenze Un incontro in prefettura Per trattare il tema dell'attività di prevenzione Di gestione del rischio idraulico Connesso all'imprescindibile Manutenzione ordinaria e straordinaria Di manufatti, opere idrauliche E attraversamenti sul demanio idrico e fluviale Il prefetto, Filippina Cocuzza Ha così incontrato i sindaci dei comuni della provincia I rappresentanti delle forze di polizia Anche i locali I vigili del fuoco Del servizio provinciale Del dipartimento regionale Di protezione civile I dirigenti del genio civile Dell'ispettorato forestale Dell'azienda Foreste dei Maniali Per un approfondimento Dei vari aspetti di protezione civile Connessi in particolare Ai fenomeni idrogeologici Ed idraulici In concomitanza della stagione autunnale E della prossima stagione invernale E anche alla fine Di condividere le indicazioni operative Richiamate dalle recenti circolari Della presidenza del Consiglio dei Ministri E del Dipartimento regionale Di protezione civile Per prevedere Prevenire E fronteggiare Eventuali situazioni di emergenza Il prefetto Ha richiamato La massima necessaria Attenzione Dei soggetti A vario titolo Responsabili E competenti Evidenziando La necessità Di mettere in rete Le diverse competenze Ai fini Della collaborazione Tra enti Ponendo Ponendo Accento Anche Sull'esigenza Di una puntuale Corretta informazione Della popolazione E sul coinvolgimento E partecipazione Della stessa Ai comportamenti Da adottare In occasione Di eventi Avversi Inoltre Ha auspicato Che gli attori interessati E in primo luogo I sindaci Adottino modelli Il più possibile Omogenei E compatibili Anche in considerazione Della contiguità Territoriale E delle inevitabili Interazioni Dei fenomeni Tra territori Limitrofi Proponendo A questo fine L'avvio Di un tavolo Di confronto Operativo In prefettura Che favorisca La conoscenza E la reiterazione Di buone prassi Positivamente Sperimentate In alcuni territori E l'armonizzazione Della modalità Di comunicazione Anche alla cittadinanza In conclusione Filippina Cocuzza Ha anticipato Che una prima Occasione di studio Organizzata Dalla prefettura Sarà fornita Il prossimo 16 ottobre Nell'ambito Delle iniziative Per la settimana Nazionale Della protezione Civile Con un tavolo Di discussione Sui temi Della pianificazione Territoriale E di approfondimento Del codice Della protezione Civile Ed ora La cronaca Due diverse Operazioni Da parte Dei carabinieri Sia modica Che a Pozzallo In totale Tre persone Arrestate In queste ultime ore Tra loro Anche due spacciatori In procinto Di rifornire le piazze Per il weekend Sentite Sorpresi Con diversi grammi Di cocaina In auto In procinto Di rifornire Le piazze Di modica Di modica In vista Del prossimo Weekend E quanto scoperto Dai carabinieri Durante un normale Servizio di controllo Del territorio Ad insospettire I militari Un'autovettura All'altezza Della rotonda Di piano ceci Con a bordo Due giovani Marocchini La perquisizione Messa sul mercato Avrebbe fruttato Oltre 1000 euro I due giovani Di 20 e 32 anni Entrambi marocchini E disoccupati Sono stati arrestati In fragranza E posti a disposizione Del pubblico Ministero di turno Della procura Di ragusa Risultati Anche a Pozzallo Dove un tunisino Di 30 anni È stato arrestato Per violenza E resistenza Pubblico ufficiale I militari Si erano imbattuti In un giovane Che alla loro vista È immediatamente scappato Dopo alcune Centinaia di metri Di inseguimento A piedi I carabinieri Sono riusciti Comunque a fermarlo Non è senza difficoltà Dato che Una volta immobilizzato Il tunisino È andato Su tutte le furie Scagliando anche Violenti calci E pugni Verso i militari Uno di loro Ha riportato Diverse lesioni E quindi trasportato Al pronto soccorso Per le cure Del caso Al termine Delle formalità Si è appurato Che l'uomo Era irregolare Sul territorio nazionale Poiché Gli era stata respinta La richiesta Di asilo politico Per lui È quindi scattato L'arresto In fragranza Le campagne Delle Mezzogiorno D'Italia Nonostante Una legge Specifica Continuano Ad essere Regno di lavoro Sfruttato E fenomeni Di illegalità Che compromettono Anche la concorrenza Tra le imprese A intervenire In merito Il deputato Ibleo Nino Minardo Che continua Si tratta Di una legge Che a quasi Tre anni Dalla sua entrata In vigore In vigore In vigore Non ha trovato Completa Attuazione Ho presentato Un'interrogazione Ai ministri Dell'interno Delle politiche Agricole e forestali Chiedendo Di verificare Di verificare i motivi Per cui la legge Non è stata applicata Nella sua totalità E nel contempo Di attivarsi Per attuare Le norme Inapplicate E contrastare Seriamente Questa piaga sociale La legge Pertanto Contiene anche Misure Che si possono Migliorare Le condizioni Di lavoro E tutelare L'azienda E l'occupazione Comercianti Di via Roma A Ragusa Sul piede Di guerra Ancora nulla Di fatto In merito Alla tanto attesa Riqualificazione Del centro storico Domani Prima Protesta simbolica A vetrine spente Per mostrare Come potrà essere In un prossimo futuro La via centrale Cittadina Guardate A Ragusa Comercianti Di via Roma Sul piede Di guerra Dopo anni Di riunioni Con le amministrazioni Che si sono succedute In cui si è ampiamente Discusso Di problematiche Soluzioni Per una Riqualificazione Del centro storico Non avendo A oggi Riscontrato Nessuna azione Concreta In attesa Che tali azioni Di riqualificazione A medio E lungo termine Vengono attuate Onde evitare La chiusura Di altri esercizi Commerciali I commercianti Del centro storico Di Ragusa Superiore Chiedono Come misura D'urgenza La riapertura Del tratto Di via Roma A traffico limitato ZTL Non avendo ricevuto Ad oggi risposta Decidono Di sensibilizzare L'amministrazione Con una protesta Volta a far vedere Come sarà Il salotto buono Della città In un futuro prossimo Se non verranno Se non verranno attuate Con urgenza Quelle politiche Di riqualificazione Di cui tanto Si è discusso A partire Dalle 20 di domani I commercianti Spegneranno Le luci Dei negozi E chiuderanno Le proprie attività Esponendo Nelle vetrine Messaggi di disagio Fino a quando Non riceveranno Dall'amministrazione Risposte concrete E quanto stabilito Proprio in queste ultime ore Un segnale forte Che mira A concentrare Su Via Roma Le attenzioni Dell'amministrazione Comunale Da tempo Infatti si ragiona Su come riqualificare Il centro storico Di Ragusa Non solo Una questione Di ripopolamento Ma anche Di passeggio Cittadino Sempre più carente In quello Che una volta Era il salotto Buono Della città Quello di Via Roma È sempre stato Un argomento scottante Per qualsiasi Sindaco Adesso Qualche iniziativa Di cambiamento Stava per registrarsi Ma tutto È terminato Nel dimenticatoio Dopo gli incontri E l'ampio dibattito Che ha caratterizzato Non solo La campagna elettorale Ma i giorni a ridosso Dell'estate Nulla Poi è stato fatto Da parte Dell'attuale Amministrazione Comunale Domani quindi Il primo Segnale Di un malcontento Comune Da parte dei commercianti Almeno Quelli che ancora Resistono I dipendenti Comunali A Modica Attendono Ancora La mensilità Di agosto Ieri Un incontro Tra l'amministrazione E la Cisle Funzione pubblica Ottenute Delle rassicurazioni Ma quello Che manca Sostiene il sindacato È un impegno Puntuale Ancora Un momento Di confronto Tra il sindaco Di Modica Ignazio Abate E una delegazione Della Cisle FP Formata Da segretario Generale Daniele Passanisi E dal segretario Territoriale Sandra Farrugio Oltre ai componenti Del direttivo Aziendale Per quanto Riguarda Il pagamento Degli arretrati Ai dipendenti Comunali La Cisle FP Ragusa Siracusa Durante l'incontro Ha ricevuto Rassicurazioni Sul fatto Che la mensilità Di agosto 2019 Riguardante I dipendenti Comunali È già stata Trasmessa In banca Per la liquidazione Relativamente Alle altre Mensilità Il primo Cittadino Ha fornito Rassicurazioni Sul fatto Che entro La fine Dell'anno Regolarizzerà L'erogazione Degli stipendi Ai comunali Compreso La tredicesima Dando Priorità Alle spettanze Per il personale Rispetto Agli altri Pagamenti Ma la Cisle FP Come ha spiegato Passanisi Si ritiene Parzialmente Soddisfatta Circa le risposte Ottenute Anche perché Speravano In una Calendarizzazione Dei pagamenti Più Pagamenti Più dettagliata E certa Al fine Di poter Garantire Serenità Alla programmazione Dei fabbisogni Dei lavoratori E delle loro Famiglie Apprezziamo La disponibilità Del sindaco Al confronto Afferma Passanisi E capiamo Le difficoltà Dell'ente Ma non possiamo Accettare Che il tutto Ricada sempre Sui dipendenti Comunali Ecco perché Il nostro sindacato Continuerà a vigilare Sull'operato Dell'amministrazione Al fine Di poter Arrivare In tempi Rapidi Alla Regolarizzazione Stipendiale Per quanto Riguarda La regolarizzazione Del pagamento Del salario Accessorio Degli anni Pregressi La CISL FP Ha già inviato Una richiesta Di convocazione Della delegazione Trattante Per riavviare I lavori Che erano stati A suo tempo Sospesi E concludere Definitivamente L'annoso Problema Del salario Accessorio E del rinnovo Del contratto Decentrato E ora Come ogni venerdì Uno sguardo Alle partite Che impegneranno Le squadre Ible Nel prossimo Fine settimana In Serie D Appuntamento difficile Per il Marina Di Ragusa In cerca Di punti Importanti Per la salvezza In Serie D Altro appuntamento Difficile Per il Marina Di Ragusa Domenica prossima In casa Contro Troina Una squadra Che sa vincere Sia dentro Che fuori Dalle mura amiche Che attualmente Con 12 punti Si trova Tra le prime Cinque In classifica Dall'altra parte Un Marina Di Ragusa Con grinta Da vendere E l'entusiasmo Di chi inizia Una nuova E avvincente avventura Come quella I ragazzi I ragazzi di mister Utro Come al solito Non si risparmieranno In nulla Soprattutto in casa E alla luce Di quanto fatto Fino ad ora Quattro punti In sei partite Con quattro sconfitte Una vittoria E un pareggio Altro importante Appuntamento In eccellenza Dove il Ragusa Si prepara Per domani Contro il Reale Siracusa Massimo rispetto Per gli are tu sei Sottolinea il DS Emanuele Merola Ma andremo in trasferta Con il tentativo Di cercare di fare La nostra partita Sappiamo che Non sarà semplice Dall'altra parte Della barricata Ci sarà Una buonissima squadra Che non a caso È reduce dal successo Sul campo Della corazzata Sant'Agata Ci vorrà dunque Una prestazione Maiuscola Da parte nostra I ragazzi Dovranno dimostrare Di che pasta Sono fatti Intanto Nonostante il mal tempo Che ha invaso I campi di allenamento In queste ultime ore La preparazione Continua Con la determinazione Che ha caratterizzato Ogni volta Gli azzurri Prepariamo Come qualsiasi altra Partita che abbiamo Giocato fino ad ora Con la determinazione Giusta Con l'input Che dice il mister Di fare Per noi È un'altra partita Che dobbiamo fare tutto Perché non penso Che qualsiasi partita Che affronteremo Qualche squadra Ci regalara niente L'abbiamo visto Sabato scorso Che l'Atletico Catena Non ha regalato niente È stata una brutta sfida Perché abbiamo vinto Che è lo più importante Quindi affronteremo Come questa Come si deve In eccellenza Anche il Santa Croce Che dopo aver spugnato Domenica scorsa Il Marco Salmeri Di Milazzo Con un gol Del bomber Ariel Reinero E con un risultato Finale Di 1 a 0 Si prepara Al prossimo appuntamento Di campionato Sempre fuori casa Contro l'Enna Allora Dobbiamo essere Equilibrati Secondo me E dobbiamo Saper soffrire Perché quando si cambia Un allenatore Il giocatore Voglio dimostrare Al nuovo allenatore Che non meritano Della posizione di classifica Dove stanno Quindi sarà una partita Molto difficile Se non più difficile Di quella di domenica Perché loro Hanno zero punti Sono ultimi E come anticipato Vogliono dimostrare A tutto l'ambiente Quindi noi Dobbiamo stare sereni Ma non dobbiamo Tirarci indietro Anzi Dobbiamo andare lì Cercare di fare Bottino pieno E quindi In promozione Il Modica Calcio Domenica alle 15.30 Chiamato dalla Don Bosco 2000 In trasferta Ad Enna Un Modica In cerca di bottino E di riscatto Tigrotti Che nonostante Un buon gioco Hanno tanto sprecato Nelle scorse settimane Eclatante Quanto accaduto Domenica scorsa Al Pietroscollo Dove si è visto Un Modica Dominante E una squadra Ospite Che ha comunque Chiuso il match Con un pareggio Strappato Per il Modica Attualmente Tre pareggi Quindi in quattro partite In totale Sei punti Che vedono i ragazzi Di mister Cervillera Stabili A oltre Metà classifica Più in basso La Don Bosco Che con solo due punti E una sconfitta Schiacciante 6 a 2 Domenica scorsa Contro il Caltagirone Tenterà il riscatto Casaringo Sempre in promozione L'Atletico Scicli Chiamato fuori casa Sul campo della Leonfortese Mentre il commiso Al Riccardo Garrone Siracusa Derby Ibleo Sempre domenica Tra il Frigintini E il Pozzallo Infine La Virtus Si spica in casa Impegnata Contro la Megara Augusta E ancora prima di chiudere Un'altra notizia Il Vescovo Monsignore Carmelo Cutitta Ha nominato Monsignor Salvatore Burrafato Direttore Della Biblioteca Diocesana Succede A Don Giuseppe Di Corrado Cui si deve L'organizzazione Di importanti iniziative Che hanno confermato La centralità Alla Biblioteca Diocesana Nel panorama Culturale Ibleo Oggi la Biblioteca Custurisce Oltre 50.000 volumi Tra cui 5 manoscritti Sulla storia di Ragusa 354 opere Risalenti al 1600 900 risalenti Al 1700 E circa 1000 Al 1800 Diverse opere Significative Nelle varie discipline Teologiche Rappresentano Un valido Supporto didattico Per gli studenti Di teologia Bene Questo è tutto Non ci sono aggiornamenti Quindi l'appuntamento E con le prossime edizioni Grazie Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.